Vieni, no, no, aspetta, mi metto nel ginocchio, aspetta, mi metto nel ginocchio, aspetta, se è troppo forte, 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 poi mi metto nel ginocchio, vieni qui con qui. Siamo pronti, oggi 7 agosto 2006, scoponiamo Federico Tassinari alla deriminizzazione, con quest'acqua sacra, ricorgata dalle 20 colline porlivesi. Accetta volentieri questo rito per purificarti e per sputare al meglio la prossima stagione, e che dividerà vestire con smisurato orgoglio la storica cadacca bianco-rosso a quali veste. Applausi! 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 Applausi!